Ben trovati al consueto appuntamento con il meteo e con le previsioni del meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it. Le correnti moderatamente fredde che nelle ultime 48 ore hanno interessato la nostra regione vanno rapidamente attenuandosi grazie al rinforzo dell'alta pressione che entro il fine settimana ingloberà l'intera nostra penisola. Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche di sabato 30 marzo, cielo poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature in aumento nei valori massimi, stazionarie le minime della notte o in lieve diminuzione nelle vallate e pianure interne, venti deboli da nord-est e mare poco mosso. Per domenica 31 marzo previsto cielo sereno e poco nuvoloso ovunque, a parte la formazione di nubi basse al primo mattino lungo la costa e dense foschie nelle vallate e pianure interne. Temperature in ulteriore aumento con valori massimi che si porteranno al di sopra della media stagionale, venti deboli di direzione variabile con tendenza a disporsi da sud, mare quasi calmo o poco mosso. Per quanto riguarda invece la tendenza della prossima settimana, lunedì non avremo cambiamenti significativi, mentre tra martedì 2 e mercoledì 3 aprile una perturbazione di origine atlantica potrebbe interessare la nostra regione determinando un peggioramento con associate precipitazioni e nuovo calo delle temperature. Ma per maggiori